buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale del video di oggi vi faccio vedere una unboxing per quanto riguarda un hardware voler il legger nano s e vi faccio vedere come andare a impostarlo sul vostro computer ovviamente dopo la sigla eccolo qua questa è la confezione del legger nano s e andiamo a vedere che cosa contiene ovviamente contiene il legger il nostro hardware wallet dove noi andremo a detenere le nostre cripto valute in modo completamente sicuro dove la responsabilità delle cripto valute sarà completamente in mano nostra e non in mano dall exchange quindi abbiamo il legger il cavetto usb per poterlo collegare al computer un cavetto per poterlo portare insieme a noi magari appeso o collegato alla cintura con relativa anello per riuscire a tenerlo al sicuro e non perderlo in più abbiamo questa bustina che andiamo a vedere che cosa contiene la sostanzialmente questa bustina contiene questi tipi di cartoncini dove noi andremo ad annotare le nostre si delle nostre parole segrete per fare un ripristino del del legger nel caso perdessimo labor wall venisse in qualche modo compromesso noi potremmo andare a fare un ripristino dovete collegarvi all'indirizzo legger.com alla voce download e andare a scaricare legger live l'applicazione legger live come vedete è tramite desktop oppure anche tramite apple store o google per i store ovviamente qua sotto vedete le compatibilità con legger nano x o legger nano s in questo caso io lo voglio utilizzare da desktop quindi andrò a scaricare l'applicazione desktop clicco su download seleziona nel sistema operativo windows app e clicco sopra windows in questo momento partirà il download e installerò il programma come qualsiasi programma che possiamo installare a questo punto una volta installato ci apparirà il menu di avvio del programma siamo settare in alto adesso delle lingue francese russia spagnolo o inglese manca la lingua italiana è abbastanza semplice da comprendere comunque andiamo su get started scegliamo il nostro legger che sia nano s nano x o blu in questo caso nano s vi chiederà se dovete fare un recovery di un vecchio nano s che il vostro possesso oppure creare una configurazione completamente da zero noi clicchiamo setup a new nano s andiamo avanti con le freccette siamo pronti e qua di nuovo andiamo a completare tutti questi passaggi cliccando su next page vi indica di andare a collegare il legger nano s al computer e quale tastini cliccare sopra il nano s ci sono due tasti uno sulla destra una sulla sinistra quindi ci va a indicare di accendere il nostro nano s collegarlo al computer muoverci con le freccette quindi il tasto destro tasto sinistro all'interno sul nostro legger ci permette di spostarci all'interno del menu che trovate su un display sul legger e andare a selezionare setup a new device e poi di seguire le istruzioni per il codice pin per dare l'ok e confermare il menu bisogna cliccare contemporaneamente i due tastini andiamo avanti andiamo inserire il nostro pin code attenzione non sono i sid di ricovero ma è solo il pin per autorizzare eventualmente transazioni o altre funzionalità impostato al nostro pin andiamo avanti e copriamo sul foglio che ho fatto vedere all'inizio o su un foglio che volete voi le nostre sid che ci vengano mostrati sul display del legger dopodiché confermiamo i sid all'interno del nostro legget e clicchiamo sul next page rispondiamo a un piccolo e semplicissimo quiz perfetto abbiamo creato il nostro legger clicchiamo su continua e andiamo alla schermata del nostro portafoglio dove abbiamo portafoglio buy and sell land e manager vedo già che c'è un messaggio non appena installato vado su manager probabilmente ci sarà un aggiornamento firme da effettuare vediamo cosa dice in diretta sì esatto c'è una nuova versione quindi vado ad aggiornare il firmware attendiamo un attimo il download e l'aggiornamento del mio leggere poi vi faccio vedere come impostare le cripto valute perfetto l'aggiornamento firme è completato arrivati a questo punto nella home page abbiamo l'immagine del nostro legger la capacità del nostro legger quante applicazioni sono state installate la versione del firme e qua sotto tutte le cripto valute che sono supportati cripto valute che poi vengono continuamente aggiornate tramite dei firmware quindi noi volendo supportare bitcoin all'interno del legger non ci basterà altro che andare a cliccare su installa e verrà installata la possibilità di inserire acquistare e inviare bitcoin all'interno del nostro legger cliccando in alto a destra sulla rotellina possiamo andare a cambiare alcuni parametri come ad esempio la valuta mettiamo euro possiamo scegliere la lingua ma come abbiamo visto l'italiano non è presente il tema se il tema al colore del sistema oppure scuro e via dicendo direttamente nel nostro legger fare una prova di installazione di una cripto valuta andiamo a selezionare bitcoin installa come vedete ci occuperà 42 su 144 kilobyte non vi preoccupate sulla memoria sembra poca perché dopo alcune cripto valute che hanno una memoria un pochino più alta il restante vedete prende 2 kilobyte 2 kilobyte 36 2 kilobyte quindi sono veramente poco capienti come memorie allora siamo arrivati all'installazione dobbiamo fare aggiungi account selezioniamo ovviamente bitcoin ci dice che cosa dobbiamo fare sul nostro device quindi cliccare contemporaneamente i nostri sui tastini sul legger e continuare l'installazione quindi aspettiamo la sincronizzazione noi possiamo anche a rinominarlo il rinomino bitcoin tranquillamente e basta ci metterà un pochino per sincronizzarlo perché va a sincronizzarsi comunque con tutta la block chain clicchiamo su aggiungi account e basta semplicissimo il nostro account è stato aggiunto con successo quindi se noi andiamo sul portafoglio attualmente vediamo 0 euro perché non ci sono dei cripto valute possiamo andare a gestire i nostri portafogli nostri account inviare ricevere cripto valute ed eventualmente anche acquistarle facciamo una simulazione di acquisto by selezioniamo bitcoin selezioniamo il nostro account facciamo continua si connetterà al nostro legger e vedete che tramite un'applicazione poi di terza parte noi potremo comprare bitcoin tramite visa master caro bonifico sepa facciamo una prova di 60 euro che il minimo ci viene dato lo 0 0 0 15 71 36 bitcoin dopodiché ci viene chiesta l'indirizzo email e poi tutti i nostri parametri per effettuare un pagamento che sia tramite bonifico che sia tramite carta di credito diamo uno sguardo alle fi le fi di conversione solo 0,50 fi per il trasferimento diretto tramite sepa 1.5 per cento la debito tramite carta di credito o carta di debito e del 4,25 per cento un pochino più alte della media quindi io consiglio sempre di acquistare la cripto valuta su bainas su coinvese e di inviarla è il nostro portafoglio sul legger per quanto riguarda la vendita possiamo vendere le nostre cripto valute installando questa applicazione di terza parte al momento non ho interesse a vendere cripto valute quindi non installo per fare una simulazione questa applicazione lo farò poi in seguito abbiamo la possibilità di fare lo swap quindi di andare a cambiare i nostri tocchi le nostre cripto valute è una funzione che c'è non da molto la possibilità di fare del land quindi andare a prestare queste tre tipologie di di cripto valute e ottenere un interesse che vale dal 3,87 a 6,88 per cento annuo bene ragazzi siamo arrivati alla fine di questo tutorial spero sia stato utile di vostro gradimento non vi preoccupate se ho parlato in modo molto rapido di alcune funzioni all'interno del legger perché questa è solo la guida di installazione ma vi farò vedere come ricevere cripto valute come inviarle come prestarle e altri tipologie di funzionalità che si nascondono all'interno di questo hardware wallet che vi consiglio sia il nano s o il nano x andremo poi a fare una scheda di comparazione tra le due versioni quale sono le diversità noi ci vediamo domani con un altro video mi raccomando iscrivetevi al canale unitevi alla nostra community telegram grazie